Pregando alla Maria Immacolata, patrona della nostra congregazione, vogliamo diventare inoltre come i primi cristiani, con lei che ha detto sì allo Spirito Santo, che ha magnificato Dio per le sue benedizioni e che ha meditato nel suo cuore come tesoro il Vangelo, fiduciosa in Dio pur non avendo capito. Con lei che la sua vita era sempre centrata sul Cristo e totalmente abbandonata alla volontà e all'amore di Dio. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti